15 nuovi barman per la stagione turistica 2016 dell'Isola d'Elba. Si è appena concluso il corso di formazione professionale organizzato come ogni anno da CESCOT. Una figura molto richiesta dal mondo del lavoro che richiede competenze e passione, ma che appaga e premia per le soddisfazioni che regala. L'evento conclusivo con le prove finali degli allievi si è tenuto all'hotel Airone di Portoferraio. È un percorso che noi riproponiamo tutti gli anni, quindi una classica proposta del CESCOT e ogni anno ha un buon successo. Noi abbiniamo sempre la possibilità di un colloquio per la stagione estiva. È una professione ricercatissima, una professione in evoluzione e quindi questi ragazzi, queste persone che hanno fatto questo corso avranno sicuramente possibilità di inserimento lavorativo. Quello che si vede è che c'è una grande fantasia e una grande applicazione in quelle che sono state le nozioni spiegate probabilmente durante i corsi. Quindi c'è amore verso questo tipo di professione? Sì, io dico sempre, il nostro docente Marco Giovarruscio abbina una grande professionalità alla passione per il lavoro che è poi una grande fortuna. Insomma, abbinare le due cose significa conciliare la vita personale con quella lavorativa. Quindi è un lavoro che si può fare, ogni lavoro si può fare in tanti modi. Aggiungendoci la passione alla tecnicalità è indubbiamente quella, come dire, la marcia in più per poter svolgere poi bene la professione. La serata all'Hotel Airone ha visto i partecipanti sostenere una prova dimostrativa in cui dovevano preparare un cocktail. A giudicarli Franco De Simone, presidente di Confesercenti, e i sommelier Eliana Colla, Simona Sabbioni e Agnese Favale. A prestare la propria esperienza in qualità di docente del corso il barman professionista Marco Giovarruscio. Si nota, esce, traspare da questi ragazzi e da queste ragazze la passione. Sì, bravo Paolo. La cosa che mi interessa di più a me è trasmettere la passione a questi ragazzi che, come in tutti i lavori, è quello che può fare la differenza. Amare questo lavoro molto impegnativo, sia come orari, sia come fatica, però permette una grande scuola di vita. Conosci tanta gente, ti puoi relazionare con il mondo intero ed ha davvero moltissime soddisfazioni. È un mestiere antico, ma è un mestiere che diventa sempre più moderno, dove le tecniche non sono soltanto quelle di miscelare liquori e altri ingredienti, ma anche quelle di stare davanti al pubblico. Sì, come tutti i mestieri, evolvono. Anche il barman, soprattutto negli ultimi dieci anni, grazie a dei grandi maestri internazionali, hanno inventato moltissime tecniche. Per me è un grande piacere andare a imparare queste tecniche e poi portarle qui all'Elba e insegnarle ai ragazzi in modo che possano vedere quanto a 360 gradi il mondo del bar offre moltissime opportunità di crescita. Qual è la peculiarità che trovi nei barman elbani? L'aspetto sicuramente più difficile è quello che i ragazzi d'oggi, per fortuna o per sfortuna, non sono abituati più a fare tantissimi sacrifici. Perciò sicuramente l'approccio con un orario impegnativo, e soprattutto questo lavoro si fa durante le feste, il sabato, la domenica, l'estate, un pochettino scoraggia. Ma quelle persone che poi decidono di intraprendere vedo che ottengono dei grandi risultati. Molti albani cominciano ad andare in giro per l'Italia e per l'Europa e la crescita in 16-17 anni che preparo questi ragazzi vedo che è sempre costante e sempre migliore. Il corso, organizzato da CESCOT, visto il successo, si terrà anche il prossimo anno. Noi lo proponiamo tutti gli anni, quindi ci sarà anche nella prossima stagione invernale, poi facciamo dei seminari invece soltanto di quattro ore, il prossimo è lunedì, quindi volendo ci sono ancora dei posti liberi. Ci sono poi altre possibilità, ancora aperte le iscrizioni per un corso per professione cuoco, per ragazzi minori usciti dal percorso scolastico in questo momento e uno per la creazione d'impresa, sempre per giovani entro i 30 anni. Quindi l'offerta c'è anche in questo momento per corsi, ho citato soltanto i corsi completamente gratuiti. Chiedo un'anticipazione per la prima pagina di Teleelba. Qual è la moda, qual è il trend dell'estate 2016? Allora, i cocktail del 2016 saranno dei cocktail sicuramente all'insegna dell'equilibrio. L'equilibrio è dato da quattro importanti elementi che sono sweet, strong, weak e sweet. Chi riesce ad abbinare bene questi quattro elementi crea un cocktail vincente sicuramente. Grazie. 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 Grazie.